La donna adultera è ciascuno di noi. C'è nella vita di ognuno il momento della crisi, il momento in cui ti senti nudo e umiliato davanti agli altri. In questi momenti non possiamo perdere la speranza, perché è questa l'ora di Dio, è questa l'ora della misericordia che ti tende la mano per rimetterti sulle tue gambe e darti la spinta per continuare il cammino con nuovo entusiasmo. La ragione della speranza cristiana è la misericordia di Dio. Il Signore con la sua misericordia cancella il fallimento, invita la conversione e apre un futuro nuovo. Il suo perdono impegna l'uomo a cambiare, a diventare migliore, a reinventarsi e a ricominciare da zero. Hai piena fiducia nella misericordia di Dio. I tuoi fallimenti ti hanno portato a pensare male di te stesso. Sei anche tu tra quelli che buttano la pietra dal giudizio degli errori degli altri.